Ciao a tutti, sono Anna Greta Giannotti, da molti di voi conosciuta come Grace, e oggi sono qui per parlarvi di due prodotti Costa Lab che sono entrati con il mio immenso piacere a far parte della mia strumentazione e che sono diventati parte fondamentale per la costruzione del mio sound. In particolare oggi vi parlerò di un effetto che è diventato fondamentale per noi chitarristi e ultimamente apprezzato anche dai bassisti, che è appunto il Chorus. Il Chorus Costa Lab, chiamato Chorus Lab, riprende quelle sonorità tipiche americane di chi per primo ha utilizzato questo effetto, soprattutto nella musica fusion e jazz rock. Infatti il Chorus Lab ha la particolarità di avere un sound molto caldo, morbido, avvolgente e ben definito. Andiamo a vedere più da vicino le caratteristiche tecniche del pedale. Qui abbiamo l'entrata in del jack e qui l'uscita out. Il pedale si può alimentare con un alimentatore esterno da 9-12 volt, qui abbiamo lo spinotto dell'alimentatore, oppure semplicemente inserendo una pila da 9 volt nel retro del pedale. Mentre invece queste tre manopole mi permettono di controllare l'effetto. Andiamola a vedere nello specifico. Qui abbiamo la manopola Depth, profondità, infatti mi regola la profondità dell'effetto Chorus e se la sposto verso destra la profondità aumenta, mentre chiaramente verso sinistra la profondità diminuisce. Qui Rate, controllo la velocità della modulazione. Se sposto la manopola verso destra la velocità aumenta, mentre verso sinistra la velocità chiaramente diminuisce. Questa manopolina qui invece è il mix, quindi scelgo quanto effetto fa entrare dal mio suono fuori. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti